Buongiorno a voi tutti che ci seguite su LibreTV, siamo in collegamento quest'oggi con Andrea Spinetti, lo ringraziamo, Radicale, Radicale di Genova, in quanto lo conoscete soprattutto perché lo conoscete in quanto lui ci porta a conoscenza degli aggiornamenti di una vicenda triste e lunga, purtroppo drammatica, direi, che riguarda tutta la questione dei danneggiati dalle trasfusioni del sangue infetto, che coinvolge decine di migliaia di persone, Andrea Spinetti, Radicale, come ho detto di Genova e fa parte del comitato delle vittime del sangue infetto e oggi abbiamo delle notizie da dare, sappiamo che appunto in qualche modo LibreTV, riuscendo un pochino nella sommissione, di informare, diventato anche un centro di riferimento per tutti coloro che sono interessati a questa vicenda, perché abbiamo fatto varie puntate su questo, varie trasmissioni, e diamo oggi degli aggiornamenti in cui, come spesso accade per quanto riguarda le vicende di giustizia italiane, dovremmo parlare anche di Europa, perché pare che in Italia per ottenere un minimo di giustizia ci sembra rivolgere all'estero, e proprio da questo partiremo per poi tornare in Italia, perché abbiamo, partendo dall'Europa, una richiesta del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, una pronuncia della CEDU, e a questo punto io darei subito la parola a Andrea Spinetti, che inizia appunto a informarci su questa vicenda che appunto coinvolge decine di migliaia di persone, veramente drammatica questa vicenda. A te Andrea, grazie di essere con noi su LibreTV ancora una volta. Grazie a te Gianni, grazie a LibreTV che ci dà ancora una volta uno spazio di voce, di voce che questa volta ha delle belle notizie, visto dal punto di vista dei malati, non tanto belle per lo Stato italiano, che accingendosi a governare i prossimi sei mesi il Parlamento europeo, si trova a dover rispondere a un'inotemperanza di una sentenza che dopo anni di battaglia ha sancito che le persone che erano state contagiate e avevano riconosciuto il nesso pausale, cioè tra patologie, contratte e trattamenti subiti, che sono solamente quindi quelle persone che o attraverso i tribunali o attraverso delle mediche avevano stabilito questo nesso pausale, ebbene tutte queste persone, che sono circa 60 mila, hanno diritto a ricevere gli arretrati della rivalutazione monetaria dell'intennizzo con quello della legge 210 che ha un intennizzo, ricordo, ecosolidale che fu emanato nel 1992 in piena tangentopoli per cercare di dare un minimo di sostegno a queste persone, quindi non entra assolutamente nel merito del risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, tutto quello che comporta chiaramente un danno derivante da una pratica del genere. Pratica, ripeto, che è coda di un comportamento doloso, comportamento doloso da parte di alcuni è sicuramente un comportamento di non potemperanza, di non osservanza di quelli che erano i principi per la sicurezza vigenti nel periodo finoggiato che sono appunto gli anni 70-80 e buona parte degli anni 90. Ora, è chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione, e questa è la cosa veramente vergognosa, che a fronte di un'agenzia ANSA, questa mattina, nessun giornale importante avesse riportato questa notizia per mettere al centro dell'attenzione questa problematica, problematica che tra l'altro è molto difficile nella composizione di tutte le sue sfaccettature, anche perché, ricordiamoci, sono ben 27 anni che da qua hanno stato scoperto praticamente, c'è stato questo episodio, questo fenomeno che noi diciamo essere un'epidemia, ma che lo Stato continua a negare, per il quale oggi ci troviamo di fronte a una situazione dove il governo deve assolutamente prendere delle iniziative e soprattutto dare delle risposte. Tenuto a conto del fatto che nel contempo che c'è questo giudizio in Europa, che arriva sulla testa, tra capo e condo, sulla testa del Ministero e Governo, c'è anche un'altra situazione abbastanza incresciosa, sulla quale altro ringrazio il Movimento 5 Stelle che ieri, attraverso la deputata Maria Lucia Verlore, che ci ha presentato in divulgazione, proprio in merito a questa vicenda, perché mentre l'Europa ci condagna a pagare gli arretrati a tutti della rivalutazione monetaria dell'indemnizzo, è in grande incertezza su quello che invece sarà il futuro dell'arretazione stessa dell'indemnizzo, poiché praticamente dal 2010, grazie a una nuova sempre di tre momenti, che probabilmente noi stessi malattici stiamo un attimino dimenticati, ha permesso che dal 2012 in sostanza le regioni non ricevono più i trasferimenti in materia per poter ottemperare a quello che è un obbligo di legge e alla garanzia soprattutto di un diritto sancito per legge nei confronti di un cittadino danneggiato da loro. Qui siamo tornati in Italia Andrea? Siamo tornati in Italia. Siccome si parla delle regioni e delle province autonome, ovviamente che sono state investite di questo obbligo, se non vado errato, si in qualche modo ripropone, si rispecchia tutta quanta la differenziazione che poi spesso è a livello di latitudine, da nord a sud, dei sistemi sanitari regionali, dell'efficienza delle regioni, quindi in qualche modo si ripropone che realizzano delle disparità a seconda delle regioni in cui si è residente, le persone che hanno diritto a questi indennizi sono residenti. diciamo che le discriminazioni anche queste hanno varie sfaccettature. La prima discriminazione che io intendo stigmatizzare è che oggi in Italia esiste una parte di malati che hanno già ricevuto circa 20 mila Euro a testa di arredrati, quindi hanno fatto in Natale più che bene e ci sono persone che sono pagate dalle regioni che oltre a non aver ricevuto i risarcimenti, oggi sono ancora a dover supplicare un'intervento affinché il cinismo non superi quel livello di guardia e che non levi veramente la bombola d'ossigeno, stacchi in Sondina questa gente è veramente esasperata. Scusa il mio dono, la mia concitazione, ma per me questi giorni sono giorni importanti e non faccio altro che ricevere di telefonare soprattutto da cittadini calabresi, perché nella vergogna estrema, perché fino a oggi fortunatamente le regioni hanno solo minacciato la remissione delle deleghe, attraverso per altro un comunicato, per altro che recuperazione per altri chiediti, ma anche sul comportamento delle regioni poi ci sarebbe molto da dire, perché se attuassero le regioni, le prerogative che ne sono in appannaggio per tutelare gli interessi dei cittadini, invece non facessero favore politico al governo centrale, forse probabilmente non si sarebbe arrivati adesso a questo epilogo veramente vergognoso, perché voglio ricordare che noi radicali, il comitato di vittime sangue e infetto della Luca Coscioni, questi problemi li avevamo già evidenziati un anno fa, in una conferenza stampa alla quale avevi partecipato anche te. Sì, sta tutto su LibriDV. Ecco, ora il problema è che di fronte a questa situazione, di fronte al fatto che noi abbiamo contattato tutti, tutti i gruppi parlamentari che potessero arrivare oggi, l'unica voce io spero vivamente che ci sia quella trasversalità tanto angoniata per il discorso transattivo ormai praticamente per me morto, poi magari in un altro momento parleremo anche del discorso della transazione, ma direi che questo è un capitolo a parte, io mi vorrei concentrare su quella che secondo me è l'urgenza. Ripeto, Maria Lucia Lorefice ha fatto l'interrogazione e l'interrogazione ha risposto orale in commissione, lo streaming chiaramente in commissione non ne ha consentito, aspettiamo adesso il reso conto stereografico della risposta del governo. Ci aspettiamo chiaramente la solita supercazzo, può anche essere che magari riescano a trovare i soldi necessari per ottenere, ripeto questa che è una sentenza che mette in luce una vicenda dove insieme a quella dei detenuti l'Italia non fa sicuramente una bella figura, anzi direi che fa proprio una figura, lascio attentare. Sì sì no, senz'altro, poi in tutto questo si è poi anche inserito il cambio del Ministro della Salute, cambio, insomma no, anzi poi sarà una conferma, ma comunque il Ministro della Salute è Beatrice Lorenzin e poi ho saputo appunto che ci stata anche una petizione se non sbaglio una petizione online, ecco ce ne vuoi parlare, di chi si tratta? Sì, come Comitato Vittime Sanguinfatti abbiamo lanciato una petizione su Ceglion, affinché appello praticamente al Ministro della Salute, alla Conferenza Stato-Regioni perché a questo punto è la Conferenza Stato-Regioni e il Governo e il Ministero che devono trovare una quadra, c'è, io non vorrei, per la mia esperienza, ma trovata nel tempo, che alla fine non si inquadrasse il solito teatrino dove io pippo un miramento con te di Franco perché tu sei comportato male come u'era e tu mi dici le stesse cose e alla fine rimane che noi ritiriamo e mi dici le rimane nel mezzo e non si risolve nulla. Anche perché, ripeto, qua non stiamo parlando di risarcimento, cioè di denari aggiuntivi, ma parliamo di sostentamento, di minimo sostentamento, cioè se poi andiamo a analizzare nel fatti specifico, anche con le nuove riforme sanitarie, c'è molti dei farmaci che prima erano passati e sono stati messi fuori, quindi sono soldi che servono essenzialmente per curarsi. Ecco, infatti, proprio su questo, proviamo a quantificare, a dare delle cifre del sostegno e dello sforzo che appunto lo Stato dovrebbe sostenere, perché poi queste cifre sono anche la misura di quanto l'informazione trascuri questa vicenda, perché qua ormai si sentono notizie sui Tg, per cui quasi anche mettere un semaforo ha una ripercussione sul Pille, a sua volta ce n'ha una sullo spread e così via. Qua si tratta di una cosa abbastanza grossa, però non se ne parla molto. Ecco, proviamo a dare delle cifre. Allora, ti spiego subito, in realtà non è che non se ne parla, se ne parla e se ne parla come, per esempio delle terapie, delle nuove terapie per le patutecite stanno arrivando dall'America, se ne parla e come, se ne parla e come, se non se ne parla, è un grosso problema per il Ministero. Ma è soprattutto un grosso problema per il Ministero, andare a dire alla gente che tutti questi soldi, nella stragrande maggioranza dei casi, sono stati venuti attraverso il sangue, come è stato detto al congresso di presentazione da parte delle stesse major che hanno introdotto il farmaco a Londra, in un ritardo di una settimana. Quindi, bisogna vedere se conta quello che si dice a Londra o quello che si continua a dire qua in Italia. Il problema è che non si è mai andati a chiamare tutti gli attori in campo affinché partecipassero e per garantire un ecuore esercimento e possibilmente garantire un migliore cura a tutti. È chiaro che il problema è grosso, ma non si può certo imputare a noi malati e allora bisognerebbe andare un pochino a riprendere tutti questi 25 anni di silenzio e anche un attimo in cui possiamo andare a vedere in che modo sta andando il discorso di accreditmattamento dei centri trasfusionali in Italia rispetto a quello che è il progetto europeo e a quello che dice la legge che regola il sistema sangue. Diciamo che l'Italia presenta delle zone di luce e ombre, poche luci e molte ombre. In realtà l'inedaggatezza dei sistemi trasfusionali per lo meno in materia di raccolta, sangue, per lo meno in materia di emoderivati lascia in mano una situazione che fondamentalmente non è che sia molto cambiata rispetto a tutti che ci va in campo. Sicuramente sì, questa è una delle tante ineguatezze, ma tu come vittima ovviamente e oltre che come vittima anche come esperto ormai per forza di cose, per necessità di tutta questa vicenda, che cosa potresti suggerire come miglioramento per tutta questa versione? Quali miglioramenti, quali riforme direi su questa vicenda della raccolta del sangue sarebbero importanti e utili affinché questa cosa non si ripeta, quali standard bisognerebbe raggiungere che l'Italia ancora non ha raggiunto? Allora, innanzitutto voglio dire che le leggi esistono, basterebbe rispettarle e non voglio dire altro, perché sennò dobbiamo fare tre ore di trasmissione e alla quale, chiaramente se parlano di argomenti del genere, avrei piacere che fossero presenti persone sicuramente più ferrate di me nel senso tecnico, abbiamo anche quelle persone a disposizione, persone antimofibili come me e che peraltro sono anche coinvolte e questa è l'altra notizia che volevo dire, finalmente riparte il processo a Napoli nei confronti di Luido Martucci e di Luido dove poi andò in prescrizione, sappiamo anche in che modo, questo processo serve a dare giustizia alle morti e non ai contagi. Diamo un'informazione a un processo per quale reato si contesta? Omicidio colpuso plurimon con imputazione coatta, quindi è un processo che teoricamente non può andare in prescrizione perché si rinnova continuamente, cioè teoricamente se muoio io, mia madre, o se muore mia madre e io, o se muoio io, mia madre e mia moglie, si costituiranno parte civile a Napoli nel processo antorso. Considera che mediamente ne stanno morendo gli emofidici 5 o 6 l'anno, come è nel comunicato che è stato fatto recentemente appunto da questo gruppo di emofidici, che ringrazio, perché se oggi esiste ancora un ballone di giustizia grazie all'iniziativa di Alcuni. Ringrazio il mio avvocato Stefano Bertone, quindi la situazione oggi pone di fronte a un problema, ma saranno risarcibili tutti questi danni? E possiamo eventualmente allargare questo caso scuola a tutti gli altri casi che stanno venendo fuori, ma anche che sconfinano dal discorso del contagio, parliamo di reati che causano danni lungolattenti. Vogliamo un attimino fare una legge dove giochi un pochino meglio sulla prescrizione, almeno che faccia da deterrente, perché se poi alla fine tutto si risolve in delle sanzioni oppure in processi lunghi dove poi la prescrizione interviene e alla fine non si fa mai giustizia, io direi che di soluzione non se ne trova. Insomma, non è un lavoro facile. Quindi diciamo fondamentalmente… Anche perché nel 99% dei casi, in tutti i casi questo genere bene o male esistono sempre delle confusioni politiche, in questo caso non sono state ancora evidenziate, speriamo che il processo ci porti un attimino a fare chiarezza, anche perché povero Guelfo Marcucci e qua spezza una lancia a suo favore. Immaginate un po' voi con che forza riesco a spezzare la lancia. In realtà lui sta fungendo un pochino da agnello sacrificare, perché il signor Guelfo Marcucci è sì responsabile con Naima derivati e fare una viaggina in le sue aziende di quelli che sono stati i danni cagionati di sua competenza, ma quelli cagionati dalla Sclavo, che ricordo è un'azienda Eni, cioè del vecchio gruppo Eni che mi ho poi trasformato in Eni, negli anni 70-80 è stata diretta da tutti gli amministratori, dirigenti di nomina partitica, PSI, PCI e DCI. Quindi il sangue che andavano a prendere nei dong cinesi per metterlo come moneta in cambio degli insediamenti in Cina, come è stato documentato tra l'altro dall'Avvocatolana al Comitato di Radicali Italiani, quindi mi prendo la responsabilità di dire questo, per lui tra l'altro per questo motivo è stato citato per diffamazione che ha vinto, perché lui fu chiamato praticamente al processo di Trento, volevo ricordare semplicemente questo piccolo aneddoto, in qualità di testimone disse che lui in precedenza, in virtù della sua attività di legale, aveva presenziato questo accordo, quindi si trattava di cosa completamente diversa dal discorso del sangue al quale si aveva presenziato. Abbiamo quindi insediamenti probabilmente fin gli anni 70, fin gli anni 80. La Cina era assolita con più delle sue transazioni commerciali dando soldi e dando soldi non ne aveva, dando sangue raccorto nelle carceri di loro donghe che poi causò anche la famosa strage del sangue del fatto che in Cina ha fatto grande, in dicembre tra l'altro, poi sull'anno delle code, puoi immaginare dei vicini umani come possano essere tutte varie di quel paese? Si rimane senza parole a ascoltare queste cose, perché effettivamente quando ci sono questi contatti internazionali, poi si viene a contatto anche con realtà che sono realtà di provenienza dove i diritti umani, ovviamente c'è una percezione diversa rispetto ai paesi occidentali e quindi ci sono delle aree di confine in qualche modo, giuridiche e qui poi bisognerebbe poi avere degli adeguamenti, degli adeguamenti nel senso di precauzioni che evidentemente dato quello che è successo non sono state prese. Il problema è questo qua, quando vivi in un paese dove il controllore è controllato nel 99% dei casi coincidono. Il discorso del controllo, perché quello che sento in questi giorni al di sento sempre dire controlli, 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 controlli e nominano questa gente controllo, controllo, controllo e non si riesce mai a risolvere nulla. Un esempio, fatti specifico nel mio caso, e torno a quello che è successo un anno fa. Esce fuori tra l'altro da un giornale di seconda battuta, con tutto il rispetto che ho della persona che è un ottimo professionista, ma non ha certo né il Corriere della Sera, né la Repubblica, né la Stampa. Viene fuori la notizia del famoso ritiro in Toscana per due lotti di plasma e risultati dopo un anno e mezzo dalla raccolta e anche lì ci sarebbero da farsi delle domande di come mai sta così tanto in stoccaggio il prodotto. Insomma, risultato positivo al virus dell'epatite C mentre stava andando, o era già in fase di produzione del derivato. Di questo fatto se ne accorse la chiese, ora dico lui. Già questo sarebbe sufficiente per far gridare lo scandalo, perché non è possibile che uno si accorga che il virus è positivo quando sta già andando in evoluzione. E questo è un discorso. Ma la cosa più angosciante è che di fronte a una nostra richiesta attraverso il giornale, di fare chiarezza, perché sul plasma intero esiste una parte che tu puoi anche estratare perché venne mandato in produzione, ma esiste una parte, quella attiva, cioè l'uomo di erosseri astriti, che probabilmente sono già andati. Quindi, anche se tu hai ridirato il plasma che è andato in produzione, quella parte torculenta, cioè quella per la terapia d'urgenza, è già andata. Quindi tu ti devi affrettare ad andare a vedere a chi è andata questa cosa qua. E se c'è da dargli un indennizzo, perché ha comprato un'epatitazione, un IDS, glielo dai. Non che vanno alla ricerca del donatore. A parte il fatto che il donatore dovrebbe essere conosciuto, avere tutti i suoi scaling, addirittura dovrebbe esserci addirittura una bacchetta, cioè una sorta di emoteca, dove tu sei in grado in tempo, il Friuli fa così, il Veneto fa così, perché le altre regioni sono un'episodio. La Toscana, tra l'altro, che è una regione virtuosa, cioè perlomeno nell'immaginario popolare viene considerata, eppure la Toscana ha avuto, oltre a questo episodio, anche due morti. Una orvedella, ora non mi ricordo, quindi se venite sulle nostre pagine tutte queste cose le trovate. Eppure io non ho mai sentito un telegiornale che parlasse di questa vicenda. Quindi questa è una vicenda grossa, non a caso, udetta, questa è la più grande transazione tra cittadino e Repubblica della storia della Repubblica italiana. Se si fa questa transazione, sennò diventa la più grossa vergogna della Repubblica italiana, automaticamente. Il problema del denaro è che nessuno si è mai preoccupato di andarla a chiedere a chi lo doveva mettere. Posso dare io dei suggerimenti? Noi gli abbiamo dato i suggerimenti alle varie procure alle quali ci siamo rivolti. Non è mica successo mica niente. Sì, perché qua si parla di decine di migliaia di persone, quindi insomma la cosa è veramente… Noi alla fine dobbiamo solamente contare su un giudice che nel momento in cui ci sederemo davanti a lui per analizzare il nostro caso, deciderà in maniera autonoma perché non esiste una legge di riferimento per i danni da contagio e quindi di conseguenza una non capacità da parte del giudice di poter fare riferimento a un aiuto. E qua c'è il Parlamento di mezzo che dovrebbe raccogliere tutte le sentenze che abbiamo, ora è fare una legge quadro. Eppure la legge quadro non si fa. Nessuno la propone. Non ci stiamo lavorando dietro. Vedremo se qualcuno avrà il coraggio di portarla in votazione. È chiaro che con così tanti avvocati non credo che in Parlamento credo che sia un provvedimento che… Sai qua il problema grosso è la prescrizione. Questa benedetta amnistia di classe. È questo il problema in modo centrale, nel nostro caso e in tanti altri. In quasi tutti direi. Il problema grosso è che oggi c'è della gente che riesce a non pagare dei reati e c'è gente che a fronte di questi reati non ottiene nulla. Parliamo delle vittime, certo. Io mi metto sempre la roba. Io sono una vittima. Attiva, dinamica, tutto quello, ma sono una vittima. Anch'io ho i miei momenti di abbattimento. In questo parlo io dico agli eventuali miei compagni di viaggio. Da volte, insomma, ragazzi, coinvolgiamoci un po' tutti. Sì, questo è un ottimo appello, diciamo, all'unità di azione. Come possiamo realizzarla? Diamo qualche riferimento anche, appunto, come sempre, facciamo su siti per informarsi, mail e cose. Intanto voglio ringraziare le poche vittime che sono presenti oggi a Montecitorio, che erano anche ieri, hanno incontrato Mario Ricciardo e Refice e aspettano la risposta in piazza. Mi ringrazio. Con alcuni ho avuto anche un po' di discussioni, perché io, probabilmente ho sbagliato, dovevo essere presente. Me ne scuso. Ringrazio chi scende in piazza sempre e comunque. Però quello che voglio dire io è che occorre adesso contattarsi. È inutile che ognuno tiri a fare il suo percorso, se lo sta facendo. Noi lo stiamo facendo da soli e siamo anche un po' stufi di farlo da soli. Quindi quello che chiedo attraverso questa scheda è che innanzitutto ci sia un contributo per quanto concerne la petizione. Petizione che di fatto, di per sé, sotto il profilo strettamente pragmatico non è che servirà molto. Però tanto è servito a portarci su Corriere della Sera, domenica, su Corriere Salute. È stato fatto un bell'articolo, tra l'altro che ha avuto un ottimo risalto, però non bisogna fermarsi lì. Non necessariamente fare solo manifestazioni. Io vedo quello che stanno facendo i parenti dei detenuti, l'Alessandra Terragni, che tra l'altro è una mia compagnia radicale, con la quale io mi affronto molto e anzi direi che ci facciamo forza a vicenda, nel senso che anche lei ha delle grosse difficoltà, però nel suo gruppo ha molta più compattezza di quella che c'è nel nostro. Purtroppo capisco che siano malattie discriminanti, che la gente non abbia voglia la mia verità, ma poi tanti sono malati e non riescono, perché sai, c'è anche questa realtà. Molta gente sarebbe anche disposta a partecipare in maniera attiva, ma ha da per un passo di attività. Sì, purtroppo in Italia poi per nulla esce fuori, si scopre di avere uno stigma, un motivo per essere già nella situazione drammatica, per essere ulteriormente discriminati. Perché? Per pregiudizio, per vergogna e purtroppo è quella una questione proprio antropologica penso che riguarda questo Paese che… C'è stata, secondo me, tutta un'opera scientifica, ma questo va bene argomento di… sono mie speculazioni, quindi lasciano tempo che provano, però mi torna in mente la famosa pubblicità della Lonne Viola scritta e evoluta fortemente dal Ministro De Lorenzo e non dimentichiamoci che il suo fratello Ferruccio era Presidente della Scala lui. Mi ricordo che quello fu veramente la più grande barriera che si potesse mettere di fronte a un problema in quel periodo. Io, perlomeno da malato, appena scoperto di avere il virus, vedermi con la pubblicità sicuramente non mia, mi posso immaginare che ho fatto, possa avere fatto, però non ce l'avevo, sarete lì, ma non sarete lì. Bene Andrea, se tu hai altre informazioni, dacceli, se no io andrei in conclusione citando ovviamente il sito del comitato che è, dillo te. Il sito del comitato è www.itmudei.it, ex comitato di temi sanguinfatti, troverete anche sulla mia pagina Andrea Spinetti tutti i link relativi per poter firmare questa posizione e mi auguro che anche attraverso questa onestà di gestione impulso, seguiamo appentamento, aspettiamo intanto di vedere quale sarà la risposta del governo e poi vedremo un addimino che cosa inventarci per riuscire il carico di venire a capo di questa vergogna. Vergogna che peraltro ha già messo i cittadini calabresi quindi un abbraccio forte di Michalabresi, non vi dimentico di voi, non ci dimentichiamo di voi assolutamente, anzi se non ci rimane i nostri pensieri. E niente, grazie a voi. E coraggio, coraggio a tutti voi e faremo, ovviamente seguiremo questa vicenda appena avrai delle ulteriori informazioni, speriamo positive che si aggiungono appunto a questa, ormai praticamente è quasi una rubrica di informazioni su questa vicenda che ha LibriTV e saremo contenti se sarei ancora con noi per poterle dare a tutti coloro che vorranno. Io sono sempre disponibile, anzi ringrazio il vostro invito, rinnovo la mia disponibilità, grazie ancora e un saluto a tutti e un abbraccio ai ascoltatori, ai compagni che frequentano LibriTV. Grazie ancora, ciao Andrea Spinetti. Grazie.